ciao da mister helmet altro che bobby e valsecchi c'è molto di peggio molto di peggio adesso vi spiego è però se vi piace tutto questo iscrivetevi al canale attivate le notifiche e scoprite come potete supportare mister helmet con lo shop le donazioni i super stickers e super grazie e l'abbonamento a partire da 3 centesimi al giorno per i junior supporter ok ci sono live dedicate live esclusive contenuti anteprime post e poi per gli sugar daddy e super supporter c'è la chat broadcast dove è possibile ricevere tutte le informazioni in tempo reale e gli aggiornamenti direttamente sul proprio cellulare vado a spiegarvi allora c'è solo una cosa che piace da noi in italia insomma non forse non solo ma soprattutto da noi di più che vedere rossi che vince o un italiano che vince no anzi forse nel caso italiano anche qualche dubbio vedere markets che subisce che soffre eccetera insomma che viene punito ufficialmente per i fatti del 2015 perché è un pilota bravo si è non si discute ma come uomo come uomo ma in realtà perché si soffre la sua superiorità l'ascoltatore medio vuole markets colpevole qualsiasi cosa succeda e qualsiasi cosa faccia anche in situazioni uguali in cui qualcun altro verrebbe assolto markets è automaticamente colpevole con la scusa che è ma lui si perdona tutto è alla fine con questa scusa a lui non si perdona proprio mai niente e quindi il cronista becero che vuole un risultato sicuro facile in mezzo a quei pochi bimbi minchia rimasti a guardare la moto gp perché questo è il livello cosa fa lo tira in mezzo perché tanto sa che avrà commenti e click che a partire dal 2015 vanno avanti ci puoi fare anche perché markets in pista fa il doppio delle cose degli altri nel bene nel male ci puoi fare 200 articoli a settimana su markets ok prendendo qualsiasi micro cosa datata anche 10 anni poi c'è il 90 per cento del paddock se non di più che sente la sua superiorità di markets e lo strapotere che insomma che ha sempre voluto e potuto esercitare è invidioso è infastidito e non vede l'ora di potersi scagliare sul leone ferito e dargli addosso per qualsiasi cosa anche fingendo di volere il suo bene tipo a ma uno come lui da uno come lui non me l'aspetto a ma uno come lui dovrebbe conservarsi dovrebbe andare piano rischiare meno così si fa male dovrebbe capire questa è ipocrisia ipocrisia ultimamente la stampa queste cose ha imparato a farle anche bene certe cose così del resto è allenata da anni come fa non lo condanna più apertamente da subito come si fa lo tira in mezzo per qualsiasi cosa si limita a fare così qualsiasi lo butta lo butta lì ma poi si divide ruoli aspettando le classiche reazioni che sicure arrivano sempre li basta instillare il dubbio e insomma poi fare la parte del poliziotto buono il poliziotto cattivo uno si dà la colpa la butta lì l'altro dice no ma forse sminuisce ma sì ma forse non è proprio colpevole bisognerebbe anche capirlo credendo no che magari così poi può andarci a parlare tranquillo perché perché lui non era quello di cui che che ne ha parlato male in realtà i piloti certe cose le sanno tutte e di certe cose gli viene spiegato tutto come ho avuto prova qualche tempo fa da corche lorenzo l'importante però è darlo in pasto il resto viene automatico uno dice non è che forse avrebbe potuto dovuto sarebbe stato meglio se cioè non dico che colpevole però è però lo tirano dentro sempre in mezzo e agli altri basta questo non ci sono nemmeno più delle accuse lo processano buttano la palla lì e la condanna è automatica tanto e marquez l'ultimo esempio è l'incidente con zarco dove non aveva alcuna responsabilità e ma non è andato a sincerarsi delle condizioni e mandano a provocare mi ricordo borsoi poi tutti i piloti dicono che lì è pericoloso e non ci sono colpe e allora comunque rimandano a rifomentare borsoi perché qualcosa su marquez si trova sempre cioè è un poveretto da andare a intervistare perché ha subito qualche torto sportivo qualche umiliazione sportivo oppure già qualche interesse in ballo nella vicenda specifica un poveretto da andare a intervistare che dica quello che serve che ti dica e che piaccia agli antitifosi si trova sempre il risultato è che l'incapace medio rosicante è già bello che fomentato l'odio non si genera da solo serve qualcuno che lo faccia partire poi è chiaro marquez è tutt'altro che perfetto e ha certi comportamenti in pista come no atteggiamenti di 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 arroganza inevitabile che 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 non lo aiutano ma per alcuni sono gesti da campione che non si arrende per altri sono gesti da arrogante dipende da chi li fa insomma linea di massima funziona così ma cosa c'entrano valsecchi e bobby sospesi sospendono valsecchi e bobby per un'uscita sbagliatissima plateale tamarrissima fuori tempo medievale come vi pare ma ogni giorno va in scena e va in scena da anni da anni per ore ogni weekend e continua durante la settimana un giornalismo infimo infido o infido sì anche peggiore di questo perché quello è stato un episodio diciamo così singolo non reiterato occasionale sbagliatissima eccetera mentre invece c'è un trend che va in va in scena ogni giorno da anni da anni nei confronti sempre degli stessi che adesso è marquez prima era qualcun altro parte dalla tv è una mia opinione qualcuno mi dirà che sono un hater pazienza penso di essere educato non aver risultato nessuno parte dalla tv e continua sui siti sui social continuo imperterrito questo giornalismo qui non lo stigmatizzano non lo sospendono ciao da mister elmet a che ne dite di fatemi sapere fatemi sapere la vostra opinione